Vuoi chiamare tu? Perché proprio io? Giacomo dorme, io sto guidando Credi che abbia paura? Pronta? Allo? Pronta sì, stiamo... Where is my package? Sì, 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 no Are you a BS? Sì, lascia... Lasciami... Who are you? Who are you? Non... Porco Dio, who are you? Allora, mi lasci parlare o no? Hai capito? Non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! Porco Dio! Why are you calling me, porco Dio? Hai proprio rotti coglioni! Hai capito? Io sono la tua! Sono la persona, a un certo punto, te lo devo dire! Faffanculo! 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 Porco Dio! Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Oh, Dio! Faffanculo! 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 V-A-F-F in volo! Testa di cazzo! Faffanculo! 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 Era occupato. Ma va a cagare, va! E' che c'è? Eh...